Mamma, dici che Buffalo Bill è un cowboy bravo. Ti ha comprato lei tutti questi libri? Alcuni. Si è salvato. Ma non potrà più comprarmi nessun libro. Perché dici così? Perché l'ho uccisa. Dottoressa Grace Victoria Burnham. Siete qui per salvarci. Satana si nasconderà in questo mondo. Finché non ritroverà la sua forza. Martín, no! Falle, Grace! Falle! Si tratta di un disturbo. Uno squilibrio mentale. La religione non c'entra niente. Restate qui col bambino. Sì. Martín! È il maligno! Non posso farmi. Mettiti dietro di me, Martín! Non siamo al sicuro. Moriremo tutti per colpa mia. Sì. Non Regarding Bambino! C'è stato un accordo di hissora.